Amici di Pupia, buonasera. Ci troviamo oggi in compagnia di Giuseppe Mariniello, candidato al Consiglio Provinciale con Zinzi Presidente per la circoscrizione Lusciano-Parete. Lei è assessore al Comune di Lusciano e anche da poco è diventato assessore. Adesso si cimenta con una nuova sfida politica, quella delle provinciali. I punti fondamentali del suo programma? Guarda, è vero che come lei ha detto che è da poco che abbiamo affrontato una campagna elettorale, quella comunale, perché come lei ben sa noi da tre mesi a questa parte stiamo amministrando la casa comunale. Per me è un orgoglio e una soddisfazione che tutto il gruppo Movimento Popolare per Lusciano ha fatto la scelta sul mio nome per la candidatura provinciale, perché noi è un progetto che stiamo portando avanti, è nato a oggi, ma dal momento in cui ci siamo messi tutti insieme per dire che bisogna dare una svolta al territorio, soprattutto nel lago Laversano, perché la svolta non sta a significare solamente in un paese, ma se non si riesce un poco tutta la provincia di Caserta, gli obiettivi e soprattutto i progetti che i cittadini vogliono per il proprio territorio non vengono mai realizzati. Quindi al momento in cui noi abbiamo creduto che a Lusciano c'era il bisogno di cambiare e ci siamo riusciti con l'amministrazione, con il nostro sindaco Luciano Fattore, dove io oggi attualmente occupo la carica di vice sindaca e di assessore dei servizi sociali, e proprio stasera stiamo facendo un confegno per quanto riguarda la problematica delle famiglie, delle problematiche perché diciamo della famiglia, perché si parla tanto della famiglia, poi alla fin fine tutti quanti per i problemi di lavoro o per altre problematiche la famiglia non la prendiamo proprio in considerazione, perché la famiglia sa significare è nulla, è il centro della vita, perché alla fin fine senza avere un rapporto solido della famiglia i nostri figli poi invece di avere un futuro dove ci devono andare a rappresentare, se noi pensiamo a correre per motivi che ho detto precedentemente, i figli crescono in un modo abbastanza soli, abbastanza isolati e quindi invece di rafforzare quei principi che ci devono contraddistinguere per far sì che l'Italia, soprattutto la provincia di Caserta, di rafforzare i veri principi, poi alla fine ci troviamo in uno Stato che tutti quanti cerchiamo di dire che deve migliorare, però nessuno facciamo niente per farlo migliorare. Lo spirito della mia candidatura a livello provinciale è stato proprio questo, perché avendo avuto i risultati a livello territoriale speriamo di avere anche la possibilità di rappresentare il nostro collegio con la mia candidatura, il collegio come lei ha detto, Luciano Parete, per far sì di far sentire la nostra voce anche a livello del parlamentino provinciale, per dire che l'Agraversano ha bisogno di una forte riscatto, l'Agraversano ha bisogno di far esternare all'esterno tutte le persone sane, le persone che vogliono dare qualcosa alla provincia di Caserta, perché non si può parlare sempre solamente delle cose negative, ma bisogna iniziare a parlare delle cose positive, soprattutto l'Agraversano che è una terra basata sull'agricoltura, teniamo dei nostri prodotti territoriali, prodotti come ad esempio il vino asprino, le fragole, la melanurca, che tutti quanti ce la invidiano, ma noi non siamo in grado di farle esternare e portarle all'esterno della provincia di Caserta. Quindi questo è il mio impegno principale, per far sì che veramente questi nostri prodotti vanno su tutte le tavole, ma non solo della provincia di Caserta, ma a livello nazionale, per dire che finalmente mangiamo dei prodotti sani, dei prodotti che sono veramente conosciuti nei cimici. I prossimi appuntamenti elettorali? I prossimi appuntamenti elettorali, giovedì sera, c'è un altro incontro con gli amici di Parete, venerdì sera gli amici con il nostro sindaco hanno fatto una riunione in un locale, che non dico i nomi, è un fatto di correttezza, e quindi sto facendo quasi tutte le sere degli incontri con gli amici. Il presidente Zinzi è stato qua a Luciano a presentare la mia candidatura il giorno 6, quindi è già venuto, dove insieme io ho spiegato il mio programma, i miei pochi punti, perché lo spirito è di non dire tante cose, ma realizzare quelle poche cose che uno vuole portare a compimento. Un sogno nel cassetto? Un sogno nel cassetto che sicuramente dopo il 28 e 29 marzo, con il supporto di tutti i cittadini, perché io mi ritengo di essere candidato di tutti, non solo di un'area politica, perché fino ad oggi il supporto che io ho sempre avuto in campagna elettorale non è stato mai solo della mia area politica, ma sono stato di tutti i cittadini di Luciano, e oggi più del mai credo nei miei concittadini, ma soprattutto anche degli amici di Parete che mi daranno il proprio supporto per far rappresentare me, a livello provinciale, questa zona. Il sogno nel cassetto è sicuramente che dopo il 28 e 29 marzo, sarò consigliere provinciale e quindi porterò avanti queste battaglie che io adesso le sto dicendo a lei.